ciao e benvenuto in un nuovo video so benissimo cosa avevamo detto basta video qui e allora perché sono qui perché è appena arrivata una new entry e ho pensato facciamola subito anche perché non so se ancora disponibile non so niente so solamente che da questo mese abbiamo una new entry ed è my beauty box è sempre una box in abbonamento mensile ma in questo caso è completamente made in italy ed è quando mi hanno contattato ho detto sì subito so che esiste da anni ma non l'avevo mai conosciuta non l'avevo mai guardata non sapevo niente di questa quindi ho detto sì subito allora my beauty box intanto vi dico che ha un prezzo di una box di 19 euro con l'abbonamento quello più vantaggioso ed è che quello annuale sono 17 euro a box dico che quello è più vantaggioso perché ho guardato un po ed è si può sospendere ed è fermare non si può annullare ma si può sospendere luglio agosto una in ferie non vuole la box lo sospende e si negativa andando avanti nei mesi e quindi è carina quindi facciamo 17 euro al mese è questa la box che sono curiosa di vedere anche per capire se ha la qualità dei prodotti ed è 10 per cento di sconto con il mio codice che trovate sempre nell'infobox guardatelo l'infobox perché ho visto che gli usate i codici e se posso darmi uno sconto perché no allora andiamo a guardarla subito è fatta così togliamo questa a questa è di gennaio non so se ancora disponibile la vedo tra quelle in elenco sinceramente però non so se disponibile o se parte da febbraio l'abbonamento non so niente guardiamo per capire per farci un'idea allora ok ok solito è già cascato perfetto stavo dicendo solito qr code da scaricare questa è la my sweet dream ok acero spoiler dentro c'è lo spoiler quindi nel caso possiamo farci un'idea oppure non guardarlo c'è proprio tutto lo spoiler lo scopriremo dopo vado a inquadrare il codice qr e idee ci riaggiorniamo appoggio allora la box è fatta così c'è questo che è grande e poi ci sono questi prodotti andiamo con un valore di 17 euro di box allora io guarderei il primo che è questo perché ce l'ho in mano e devo riprendere il telefono però perché se no non ho i prezzi allora questa è una ski maschera skin in vita body line leg mask è una maschera al mentolo e a mamelis rinfrescante e defaticante per le gambe ecco e questa la proverei sicuramente da tre 30 minuti a sei ore a quindi proprio rinfrescante defaticante questa io la provo in estate sicuramente è fatta così mi è stato sicuramente molto più curioso di provarla ed ha un valore di una 7 euro e 90 io anche guardando un attimo qui vedo full size e travel size ok e questo è uno poi prendo questo grande perché mi sembra grande direi che è un full size è il joe e joe lo conosciamo come marchio ma non so pronunciarlo gel doccia idratante stimolante tutti i tipi di pelle anche sensibile ok 400 ml quindi un full size e siamo a 6 euro e 90 ha un profumo molto delicato vabbè che è il marchio si e comunque siamo già a due full size quindi a questo punto full size credo che sia anche questo biofecina toscana luce di cameglia perle di luce con vitamina c e cameglia toscana per la crema ah no ho capito ho capito perché le ho viste sono delle perle monouso riesco a far uscire qualcuna eccole qua proprio delle perline monouso con la crema dentro quindi comoda anche da portarsi dietro ce ne sono tante tante vuol dire 21 perle quindi è un full size si è un full size sto guardando ed è un siro con vitamina c e cameglia mi piace mi piace interessante interessante questo prodotto ed è già monouso monodose quindi ed è comodo a toccare la vitamina c penso che si è comodo soprattutto anche quando uno è in viaggio oppure quando vuole utilizzarlo perché no allora quanto è un full size e vedo che il prezzo wow è 30 euro ricordiamoci che la box abbiamo detto qui c'è scritto 15 euro io vi ho detto 17 o 19 non mi ricordo 15 euro quella devo imparare anch'io devo imparare ancora scusatemi anche voi ragazzi di my beauty box è la prima box quindi quella annuale che quella che si risparmia di più 15 euro quindi già con solo questo due box però vediamo 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 se ci sono i travel full size ok questo è skin and co roma tra fall therapy maschera viso botanica rassodante midnight dew mask è un 20 ml maschera viso rassodante serve sempre 20 ml e ecco questo è un travel size ed viene 5 euro il valore è 5 euro ok ma da provare penso comunque che è un 20 ml per una volta forse anche due e ce ne può stare è chiusa la lascio chiusa al momento perché abbiamo altri due prodottini che vedo mi sta cadendo tutto l'ossitane questo è sicuramente un mini l'ossitane cocoon de serenité ah relaxing pillow mist quindi è uno spray tipo quelli da cuscino con effetto rilassante questo è piccino è proprio piccino è un 15 ml eccolo qui ed il valore è di 3 euro di quelli spray alla lavanda rilassanti per il cuscino ed è io in alcuni periodi mi piace utilizzo il classico che non mi ricordo più neanche this is works potrebbe essere ne avevo trovato uno molto valido di ava e mei ma lo fanno solamente in alcune circostanze quindi non è sempre proviamo anche questo è interessante perché mi piacciono ma non voglio profumo troppo intenso ok abbiamo letto 3 euro e andiamo con l'ultimo prodotto perché è tutta carta e abbiamo essence no da una parte all'altra essence lip care booster overnight lip mask 100% con non è vero c'è scritto 10 per cento e non capisco cos'altro c'è scritto dopo estratti del latte 10 per cento estratti del latte però è vegan magari se c'è una cavolata è fatto così scusate non ve l'ho fatto vedere è un interessante in questo periodo burri e bassami per labbra sono molto molto interessanti a mio avviso e questo è un full size da 3 euro allora facciamo un recapino veloce di tutto quanto ricordiamoci che abbiamo detto che la box ha un prezzo di 15 euro e fino a qua ci siamo andiamo a vedere i travel size che sono lo sitan il spray da cuscino e questa che comunque un bel formato la maschera midnight botanica rassodante rassodante da notte poi abbiamo full size e abbiamo essence che comunque una burro labbra un olio labbra un burro labbra una maschera delle labbra che in questo periodo molto utile joe gel doccia full size di officina toscana che abbiamo visto che ha un valore di 30 euro luce di camellia e le micro perle di sera la vitamina c e per ultimo questo che la skin in vita le patch per le gambe rinfrescanti e antifatica ok questa era tutta la box a questo punto io sono curiosa di guardare qui se parla di tutti i prodotti dire no ne manca uno manca il joe away credo joe away e invece la maschera gambe ecco qui c'erano tre possibilità maschera purificante che rimuove punti neri mi sarebbe piaciuta maschera telegambe o maschera zone critiche rassodante e levigante ecco quella con i punti neri è quella che avrei preferito sinceramente però anche le altre due da provare ok quella rassodante era quella che mi interessava meno perle di luce spider cuscino il lip care della essence il truffle therapy che la maschera da notte e manca il joe away quindi c'era perché qui c'è uno sconto delle 10 ok ve lo mostro aspettate vediamo se ha uno sconto ok 31 marzo 2024 c'è uno sconto del 10 per cento all'ossitan utilizzando il codice coccole 10 c'è lo sconto del 10 per cento sul sito dell'ossitan per lo spray da cuscino quello full size con il codice coccole 10 visto che fino a marzo eccolo qui e ve lo do anche a voi e basta direi che c'è tutto questa è una box molto carina sono stata molto incuriosita di provarla interessante fatemi sapere se vi piace questa box se la conoscevate già cosa vi incuriosisse di più con i prodotti io devo dire le perle di vitamina c sarà che io sono un amante della vitamina c per il viso e niente fatemi sapere come stai piaciuta nel mio box e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao